Salve, salve a tutti, come vedete qui ci sono delle scritte EpiFamily, questa è una onlus che io conosco, ho avuto la fortuna di conoscere qualche tempo fa, so come lavorano, sono molto serie e li sostengo da quando li ho conosciuti, si chiamano EpiFamily non a caso perché cercano di rendere felici le famiglie che purtroppo sono state colpite da disgrazie che riguardano i piccoli, i bambini, quelli più bisognosi di cure e di attenzione e quindi meritano, meritano e li sostengo con tutta la mia forza e spero che lo facciate anche voi, EpiFamily, segnate, scrivete, inviate perché questi soldi finiscono bene, garantisco io, che sono Fabio e Luigi ma questo non interessa a nessuno.